Bene, oggi è la vigilia della festa della Madonna, domani ci sarà il termine di questi festeggiamenti in onore della Madonna, Celeste Patrona degli Ericini, domani mattina noi vi sveglieremo, a meno chi dormirà qui a Erice, vi sveglieremo di mattina dicendo è la festa, usciamo e andiamo tutti in chiesa, alle 11 c'è la messa in chiesa, alla matrice e poi nel pomeriggio alle 18.30 uscirà per le vie bellissime del borgo la processione della Madonna, Celeste Patrona degli Ericini, processione che si snoderà per le vie del nostro borgo e poi alle ore 24 davanti al Real Duomo qui di Erice ci saranno i giochi piromusicali sulla base del Magnificat, quindi una serata da scorrere di nuovo qui a Erice tutti insieme e volevo anche ringraziare, nel nome di tutta la banda, la FURI Erice che come ogni anno si rende disponibile per poterci far salire qui a Erice, godendo di quel bel vedere che offre quelle belle cabine e adesso andiamo avanti con il nostro repertorio, rimanendo nella canzone, nel genere della canzone, adesso andiamo proprio nel nostro paese, la canzone italiana lo stesso anno ci ha lasciato il grande Lucio Dalla e a lui adesso dedicheremo questa raccolta di grandi successi proprio portati dal grande Lucio Dalla a voi la storia di Lucio Dalla in musica a voi la storia di Lucio Dalla in musica a voi la storia di Lucio Dalla in musica a voi la storia di Gio a voi la storia di Gio a voi la storia di Gio Grazie. 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 Grazie.